Continuiamo con la numero 10, Martina D'Angelo, sei anni da Santa Lucia. La numero 11, Teresa Guadagno, sei anni da Santa Lucia. La numero 11, Teresa Guadagno, sei anni da Santa Lucia. La numero 11, Teresa Guadagno, sei anni da Santa Lucia. La numero 11, Luca Carmen, sei anni da Santa Lucia. La numero 11, Teresa Guadagno, sei anni da Santa Lucia. La numero 11, Luca Carmen, sei anni da Santa Lucia. La numero 11, Teresa Guadagno, sei anni da Santa Lucia. La numero 11, Teresa Guadagno, sei anni da Santa Lucia. La numero 11, Teresa Guadagno, sei anni da Santa Lucia. La numero 11, Teresa Guadagno, sei anni da Santa Lucia. La numero 11, Teresa Guadagno, sei anni da Santa Lucia. La numero 11, Teresa Guadagno, sei anni da Santa Lucia. La numero 11, Teresa Guadagno, sei anni da Santa Lucia. La numero 11, Teresa Guadagno, sei anni da Santa Lucia. NUMERO 4 NUNCA LA DIA Sette anni da Santa Lucia Come vedete è il sosia di luce E' identico signori Anche nelle nuovezze, guardate NUMERO 5 POMPE LA METTA DI UN ANNO Nuovo tenete a uscita di prima Signori giurati Eccolo qui NUMERO 6 in donato Cializia, 13 anni da Santa Lucia. Numero 8, Alessandro Picardi, 4 anni da Santa Lucia. Goli, guarda che ospirante il mister che abbiamo. Numero 9, De Luca Raffaele, 10 anni da Santa Lucia. Continuiamo ancora, De Luca Cristian, numero 7, scusami, scusami amore. Allora, ritorniamo un po' indietro, numero 7 Gaeta Mario di anni 3. Andiamo? Andiamo, dai. Banzà, vieni, dai compagno io. Dami la mattina, vieni. Allora, ritorniamo un po' indietro. Signori, sono piccolini ma si lasciano fare davvero di tutto. E' lo scalino, vero o no? Fatevi un applauso, sono tre anni. Chiamavamo il numero 10, De Luca Cristian, 6 anni di Santa Lucia. E adesso, richiamo il numero 11, la ciliegina senza tarta. Eccolo qui, i soli grandi, Michele Di Donato. Ciao, ciao! Sarà che i bambini, il primo coloro che vengono è il rosso. Lui riguarda il rumoro. Era l'ultimo nostro mister, signori. Un applauso a tutti i bambini che l'hanno preso davvero come un gioco, un momento di aggregazione. Un modo per... Restituire il microfono al mio grandissimo collaboratore Enzo Guariglia. A te l'onore di presentare le Miss in ambito elegante. E' innanzitutto te, Tonio Romano. E dopo... Posso presentare il fotografo? Che elegante! Come da penso, come da sostanza. Ma allora, a prescindere da questo, mi scusi la digressione, è arrivato il momento di conoscere le nostre belle ragazze Enami 2 elegante. Quindi facciamolo un grande applauso perché dopo ci sarà la votazione finale. E sapremo finalmente la classifica e chi sarà la Miss. La Miss Santa Lucia. Ricordiamo ancora che già l'abbiamo...